Tema importante, quello di quest'anno, qual è e quali sono le novità? Il premio Ambasciatori del Sole arriva alla seconda edizione. Quest'anno abbiamo deciso di puntare forte sulla difesa degli ultimi, dei deboli, dei migranti, di coloro che soffrono. Premieremo tantissime associazioni che operano sul territorio a difesa, soprattutto delle classi più deboli, soprattutto dei ragazzi handicappati, ma anche di disabili e di coloro che non hanno voce. Insomma, sarà un premio che quest'anno vuole toccare il cuore dei napoletani. Una serata di arte e cultura per riflettere su alcuni aspetti della città di Napoli. L'accoglienza, la difesa delle diversità e dei deboli, l'inclusione sociale e la battaglia per l'inquinamento sono stati i temi principali della serata organizzata venerdì scorso nella Sala delle Carceri del Castel dell'Ovo dal quotidiano Napoli Village. Fra i premi consegnati ai nuovi Ambasciatori del Sole, anche quello al sindaco di Napoli Luigi De Magistris per le politiche adottate in questi settori, al vice sindaco Enrico Panini, che si recò in missione sull'isola di Malta per seguire da vicino la vicenda della Sea-Watch e l'assessore alla cultura Nino Daniele per la crescita turistica e culturale della città. Grazie.